Mister, lo aveva detto alla vigilia della partita, prima della partita, non bisognava sbagliare atteggiamento, il Verona non l'ha sbagliato in questa partita? No, non l'abbiamo sbagliato, sapevamo delle difficoltà di questa gara, una gara complicata, sia da un punto di vista tecnico, perché giocavamo contro una squadra comunque forte, e soprattutto da un punto di vista nervoso, mentale, perché sono gare ovviamente che sai che non devi sbagliare assolutamente, quindi da un punto di vista mentale era una gara difficilissima. I ragazzi sono stati molto bravi e l'hanno affrontata bene, un inizio equilibrato, poi dopo abbiamo creato i presupposti per far gol, l'abbiamo fatto, e abbiamo creato anche le occasioni per fare il 2-0, e quindi abbiamo legittimato il nostro vantaggio, non siamo riusciti a concretizzare quelle occasioni, e quindi proprio nel finale, quando loro si sono riversati tutti in avanti, chiaramente qualcosina hai sofferto, però la squadra non ha mollato, abbiamo tenuto duro, e quindi portiamo a casa un risultato importante che per il nostro percorso era fondamentale. Poi una classifica che comincia a dare sempre più coraggio, perché oggi arrivano tre punti molto molto importanti in una gara che era molto delicata. Sì, da coraggio, da fiducia, però sappiamo che il percorso è ancora lungo, su questo non bisogna sbagliare, no? Non bisogna sbagliare nella valutazione di questa classifica, quindi è un risultato importante che ce lo teniamo stretto, che è importante soprattutto per darci fiducia nel continuare il nostro percorso, però chiaramente, come ho detto, sappiamo che la strada è ancora lunga, non bisogna mollare, adesso la grande qualità che occorrerà avere è riuscire a mantenere questa tensione nervosa, questa condizione fisica e mentale nel medio-lungo periodo. È una strada lunga, lo ha detto lei, ci sono la Roma, c'è la Fiorentina nelle prossime partite gare impegnative, ma il Verona ci arriva con un'altra consapevolezza, con un coraggio importante. Sì, nel momento c'è la Roma, guardiamo partita dopo partita, con grande determinazione, ma con il giusto equilibrio, come sempre, perché, ripeto sempre, nel percorso che dobbiamo fare la parola equilibrio è la chiave di tutto, quindi il riuscire ad avere questa mentalità ci può consentire di raggiungere quello che è il nostro grande obiettivo.